Insieme, recitiamo la preghiera che il Signore Gesù ci ha detto. Il Signore Gesù ci ha detto. Il Signore Gesù ci ha detto. La serba povera e umile, da cui è sorta il sole di giustizia, il tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei due figli che ti presentano queste figlie della Beata Vergine perché, confortati dalla sua protezione, imprimano nel cuore l'immagine che contendono. Donano una fede indefettibile, una salva speranza, una carità solicità e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, timidosi, nella povertà, pazienti e nelle avversità, aperti alla condivisione del benessere, operatore di giustizia e costitutore di pace, finché giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entri nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e rispende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amén. 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 Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio in potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Andiamoci in pace alla celebrazione degli Ecclesi.